Musica Questa invece è la super giocata di Fernandes Musica Molto bravo Fernandes che sta procurando la posizione del 3-1 E qui serve l'assist a sempre Non è finita ancora Novara, Gonzalez per Fernandes che la gira, Novara in vantaggio, primo gol tra i professionisti Bruno, Miguel, Borges, Fernandes, quinta gara da titolare, primo gol tra i professionisti classe 1994, la Serie B continua a far vedere giovani interessanti, uno è oggi in campo Le filie, palla in mezzo e c'è il gol del Novara, 1-0, ancora una volta Fernandes E se ne va, infatti due applausi tutti in piedi allo stadio di Novara Alla uscita di Bruno Fernandes classe 94